In questa settima edizione di Masterchef Italia, pensa che sono ben tre i finalisti di questa edizione e sono nella fattispecie concreta Caterina Griniuk, Alberto Menino e Simone Scipioni Tre dunque finalisti, ti ricordo che Davide e Denis devono purtroppo dare l'addiva al programma E quindi al sogno di diventare il Masterchef italiano per eccellenza Davvero tante le novità scottanti sul piatto, davvero tanti momenti piuttosto piacevoli Davvero tante le situazioni che si possono venire eventualmente a creare proprio all'interno di questo, chiamiamolo talent show Chiamiamolo reality, che riguarda diciamo così il mondo della cucina, il mondo culinario Bene, ti ringrazio per l'ascolto, ti ho informato dunque del fatto che Simone, Alberto e Caterina sono i tre finalisti di Masterchef Italia Chi vincerà? Punto interrogativo, punto di domanda Non è dato sapere, si spera però che il più bravo, la più brava, riuscirà a vincere questo talent show, questo reality show Grazie, iscriviti, commenta, un saluto e al prossimo video da narratore italiano Grazie a tutti